L'orologio del generale, li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Niente, volevo comunicare che la benzina è diminuita, il gas è diminuito, la benzina siamo a 6 slot 83, che tradotto in euro 6 slot 83, quant'è? Bisogna fare il calcolo, e il gas, shocking per il gas a 3,03, 3 slot è incredibile, siamo veramente, io sono scioccato, meno male, sembra che la Polonia abbia fatto degli accordi con la... Quanto? 1 euro e 45, 1 euro e 45 la benzina, mentre invece il gas 3,03, 1 euro e 45 la benzina, io non posso andare in vacanza in Sardegna, capisci? 74 centesimi? Quanto? 64 centesimi il gas, dai, eh, questo è quando... No? You know what I mean? Ma dai, questi sono prezzi buoni, ok dai, keep in touch. Quando sei a una velocità estrema e non te ne accorgi, 90 km orari, è incredibile, sono arrivato anche ai cento poco fa. Questo perché le ruote sono più piccole, capito? E allora non ti danno quel senso di decentramento... Però è chiaro che questa non è una macchina per alte velocità, 80 km va benissimo, anche perché ho appena fatto benzina e non è che la voglio rimettere subito tra 10 km. Fuori ci sono... Siamo a 32 gradi, dentro la macchina siamo a 33, 33 gradi e abbiamo i finestrini aperti e giustamente mia moglie dice ma chi ha avuto l'idea di mettere il motore dentro, ma hanno avuto l'idea di mettere il motore dentro perché si è in Siberia, si è in Russia, in paesi dove il freddo è di casa, capito? E' una macchina da usare per l'inverno, cioè andare a fare l'estate in Sardegna con una macchina del genere non dico che da suicidio però è un po' come quando sei a Dubai sotto il... come sotto il deserto, il caldo desertico, no? Ero a Dubai nel 2014 e i gradi di notte erano 48, di giorno 54 quindi... e quindi siamo più o meno allo stesso livello. Il motore qua scalda in una maniera saunante, però è una cosa che devi prenderla così, no? Apri il finestrino e fa un culo. Una cosa che sarebbe da fare invece sarebbe quella di mettere due ganci nel finestrino qua, tre, nel finestrino qua centrale, nel fronte centrale, cioè nella, come si chiama, parabrezza e poterlo aprire, capito? Che almeno lo apri e ti entra l'aria, da sotto che ti entra l'aria, perché la botolina che c'è qua, questa botolina che si apre, il modello Defendere, sì ti entra un po' di arietta, però non basta per il calore che butta su il motore, che devi fare, no? E' così. attenzione al motore senti? fa un bel sound fa un bel sound e anche un bel caldino bisogna prendere il caldo quando c'è, perché per adesso dura poco, almeno qui in Polonia anche se le previsioni future più